Buonasera a tutti quanti, siamo sempre al Teatro Partè e Hotel, il grande, l'immenso maestro, Giovanni Ruso, il nostro grande, l'abbiamo acchiappato per chi stava dietro, stava dietro le quinte, soffiando, stasera fa un pochino caldo, vero maestro? Maestro, allora qualche lavoro nuovo, qualche inteprima? Se noi stavamo qui per fare un regalo a Nielo, in Paese Unico, in tanto tempo, e poi mi hai chiesto di aiuto a questo tipo, mentre invece, quando mi guardo invece, è niente, e io faccio voglia di questo, e poi, momentaneamente, sento io abbastanza di calma, piatto, un pochino, graficamente, dappertutto, ci sono cose di motivi, anche legati alla soluzione fisiopolitica, ovviamente, le nuove, le finanziarie. I tagli ci hanno veramente tagliato. E poi, si lavorano fuori, io, ovviamente, ho vari tipi di composta. Allora, cominciamo proprio con quello che è il mio sconetto in base al piano. Quindi faccio i resi, da solo piano, con un pochino in cura, noi faccio tutte le cose originali, pezzi miei che mi hanno fatto partire un pochino. un po' di cover, un po' di pino, fatta in versione, ovviamente, un plug, così, un mischiato a qualche pezzo originale, un po' giàzzato. Sì, di terreno giàzzato. Benissimo. E poi c'ho un gruppo, un gruppo, ho attento con Antonio Morali, che facciamo proprio musica sperimentale, capito, ogni tanto. Qualche data ce la puoi annunciare, se c'è? Guarda, ne ho fatti un bel po' fino a questo, la prossima dovrebbe essere il 25 giugno, perché purtroppo è adesso maggio, quindi non c'è niente. No, no, no. Il 25 giugno, il 25 giugno all'Osservatorio e a Napoli, all'Osservatorio. Sì, sì, capito. Farò un buio, io ci scemo, ci scemo. Allora vi troveremo presenti per la nuova data del Grande Maestro Gianluzzo. Un saluto da Radio Web 2000 da parte di Giuliano Pappa. Ciao. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.